Voci dal campo, Daily Basket, Lega 2, Andrea Pecciles è rientrato stasera, per voi è una partita tosta, loro si sono fatti sentire soprattutto fisicamente, forse li avete un po' sofferti. Sì, sicuramente Verona ha messo tantissima fisicità come la partita dell'andata e non si è riusciti a esprimere il livello del nostro gioco, purtroppo è sufficiente per vincere la partita. Peccato perché è chiaro che abbiamo perso un duello playoff, adesso vediamo di ricaricarci e finire al meglio sto stagione.